Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme il Garlic Nand, un pane nato tra India e Pakistan. Le prime origini sono risalenti al 1300 a.C. quando il poeta indiano Amir Kusroov ne trattò in una delle sue antiche canzoni. Però si pensa che abbia origini tanto più antiche e che risalga dal commercio del lievito tra Egitto e India. È un pane molto servito in tutti i ristoranti indiani e pakistani. Viene cotto nel tradizionale forno tandoor, che è una specie di cilindro di argilla oppure una campana rovesciata con il fuoco alla base, che può arrivare a temperature altissime, fino a 500 gradi. Qui i cuochi bagnano leggermente il pane e lo attaccano alle pareti. Questo dopo si gonfia e quando si stacca lo prendono al volo. È davvero scenografico da vedere e pensate che ne fanno a migliaia per i matrimoni. La cosa particolare è che bisogna romperlo, lo prendi con tre dita e lo inzuppi nella salsa, nel sugo, nel riso o in qualsiasi altro piatto che preferisci abbinare. Ha un gusto unico e particolare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una bowl 500 grammi di farina 00, 7 grammi di lievito secco, 10 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di sale, poi diamo una mescolata. Aggiungiamo 250 grammi di yogurt magro. Questo ingrediente renderà il pane molto soffice. 20 ml di olio evo. Continuiamo ad impastare. Quando il composto sarà abbastanza amalgamato, iniziamo ad aggiungere 100 ml di acqua tiepida poco alla volta, continuando sempre a mescolare. Trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e impastiamo per 5 minuti. Risulterà un po' appiccicoso, ma non si dovrà attaccare alle mani. Poi formiamo una palla e la trasferiamo in una ciotola unta d'olio. Ungiamo bene anche l'impasto, copriamo con pellicola trasparente e mettiamo nel forno spento solo con la luce accesa per un'ora o fino al raddoppio. Ecco il nostro impasto dopo un'ora di lievitazione. Con delicatezza lo stacchiamo dai bordi della ciotola, infariniamo il banco da lavoro e ci trasferiamo l'impasto. Lo tagliamo in 8 pezzi, ma se vediamo che sono troppo grandi, dobbiamo pesarli, perché ognuno deve essere di 100 grammi. Quindi verranno circa 9 pagnotte. Adesso prendiamo un pezzo di impasto, portiamo tutti i lati verso il centro con le nostre dita, lo pirliamo un po' e lo mettiamo sul banco da lavoro infarinato, così non si attacca. Continuiamo così con le restanti palline. Poi prendiamo un cannovaccio pulito e lasciamo a riposare per 15 minuti. Nel frattempo ci occupiamo degli ingredienti per arricchire il pane. Prendiamo 2-3 spicchi d'aglio, li tagliamo a metà, poi in pezzi più piccoli. Tagliamo grossolanamente un mazzetto di prezzemolo fresco e lo mettiamo da parte. Iniziamo a prendere le palline in base all'ordine che le abbiamo fatte. Spolverizziamo il piano da lavoro con farina, ne mettiamo un po' anche sopra e estendiamo un po'. Ci fermiamo di stendere, aggiungiamo i pezzetti d'aglio e li spingiamo leggermente nell'impasto. Aggiungiamo una manciata di semi di sesamo e un po' di prezzemolo. Stendiamo e applichiamo una leggera pressione, così gli ingredienti resteranno nell'impasto. Dobbiamo formare un ovale di 25 cm circa. Con delicatezza lo mettiamo su una teglia antiaderente molto molto calda, a fiamma media, e cuociamo per 30 secondi, finché vediamo che si formano delle bollicine. Giriamo e cuociamo per altri 40 secondi, stando molto attenti a non bruciare il pane. Se serve, continuiamo a cuocere fino al raggiungimento della doratura. Subito dopo, spennelliamo sopra dell'olio e continuiamo così finché non li finiamo. Ecco qua i nostri nan appena finiti di cuocere. Volevamo farvi vedere la struttura interna. Il pane è morbidissimo, si presta a mangiarlo caldo appena fatto. Assicuriamo che è straordinario! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia all'assaggio e adesso gustiamo questo delizioso garlic nana. Prima volevo farvi vedere la sua bellissima consistenza. Che dire, è buonissimo, bello gustoso, saporito e si può abbinare letteralmente a qualsiasi cosa che si tratti di sughi, salse, affettati o come si mangia in India con il polar curry. Il vero protagonista di questo pane è lo yogurt che riesce a renderlo morbido come una nuvola per dei giorni e dona un gusto buonissimo. Cosa posso dirvi? È assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.